E' una scuola, te lo giuro. E dai, dobbiamo starti i tuoi anni, così se mettiamo a lavorare non abbiamo un lavoretto carino. Ma con chi? Che rumene e rumene. E' un cazzo di freddo. Avete investito in una persona, mica so' pizze e fighi, eh? Ciao, ma. E' una da scuola. Normale. Noi adesso, senza volello, abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano. Ma è stato un infame. Ah, ho trovato il modo per far entrare. Stiamo a sparare? Si, si. Eh? No. Se faccia solo, eh? No, è morto un amore. A te già ti conosco. Ciao. Ciao oggi. Ciao. A me, ma perché invece resta sempre con Manolo? Stai un po' con tua madre. Sapemo tutto l'uno dell'altro, mi dici che cazzo è successo? Ma che t'hanno fatto per stare così sul cazzo? E giù mi devo poter sognare. Nooo! Nooo! Ci pensi mai quasi, ladio? Avvorti. Strano, eh? A zero a mille così, buh! Nooo! 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 Grazie a tutti.